Il bilaterale che vedrà Mario Draghi alla Casa Bianca, ospite di Joe Biden, alle 20 italiane, non è il primo fra i due presidenti che si sono parlati lo scorso ottobre a margine del G20 di Roma. Ben diversa è l'agenda dominata dal conflitto in Ucraina. Draghi vola a Washington forte di una leadership europea che gli viene riconosciuta oltreoceano, anche come ex presidente della Banca Centrale. La Casa Bianca è grata all'Italia per essersi schierata con convinzione a fianco degli Stati Uniti dopo l'aggressione russa all'Ucraina. Al presidente Joe Biden Draghi chiederà un coordinamento per la promozione di negoziati credibili che arrivino a una tregua. C'è poi il fronte dell'energia dove l'Europa si aspetta supporto dalle forniture americane. Biden chiede uno sforzo ulteriore sia dal punto di vista delle sanzioni sia per quanto riguarda la fornitura di armi. Il presidente americano conta sull'influenza dell'Italia per ricompattare l'alleanza con l'Unione, superando ogni remora sull'invio di armamenti. La convinzione di Washington è che solo così si possa vincere un ex guerra lampo, arrivata al 76esimo giorno di conflitto.